Colonna e alle pareti ci sono delle immagini tratteggiate da un pittore svizzero che ha vissuto qui per qualche tempo tra il 96 e il 97. Se ne andò all'improvviso, ora è uno dei nuovi testimoni. In passato un'altra villa vicina al luogo dell'ultimo delitto finì sotto i riflettori. Ci abitò fino alla morte un uomo che diceva di essere un mago. Parlava di strani riti, pozioni. Si era circondato di povere donne e alcuni amici, tra cui Pietro Pacciani e Mario Vanni. Sullo scenario della storia del mostro di Firenze ci sono mille personaggi e tanti altri che hanno cercato di recitarvi un ruolo. Noi vogliamo ripartire dalla storia di un uomo solo e fragile. Si chiama Giancarlo Lotti, è la persona con il giubbotto rosso che vediamo nelle immagini girate dalla polizia sulla collina di Scopeti. Lotti risponde alle domande, fa fatica a riordinare i ricordi e le parole. Racconta l'agguato dell'8 settembre 85 in cui vive Pietro Pacciani impugnare la pistola e Mario Vanni il corte. Poi cosa è successo? Poi si sentì il corte, lo spazio. Lì va il stagionno a meno. Fu la notte dell'ultimo delitto e delle ultime mutilazioni. Le vittime scelte e spiate erano due turisti francesi, Jean-Michel Kravishvili e Nudim Moriot. Il giorno del sopralluogo sulla collina di Scopeti fu decisivo per gli inquirenti. Era il 13 febbraio 1996. Giancarlo Lotti era diventato l'uomo chiave dell'inchiesta. Quando si presentò al processo lui stesso era imputato. Nei verbali dei suoi interrogatori aveva confessato di aver sparato a Gioboli nell'83 contro il camper di due giovani tedeschi. Mi chiamava Pietro e mi mette questa mano. Io non saprei mai dove farlo. Non è il prato delle svestre che sto lì. Insomma, mi diceva di cosare, però Paolo di Tomero mi diceva di di cosare, di partire ora. Di partire colpi? Di sparare? Sì. Partivo anche colpo due, questo la paura avevo una crema appena a mano. Il vanni c'era? Sì. E da che parte stava? Da parte lì là. Poi quando hanno visto erano due uomini, dopo andiamo aperto lo sportello. Gli avvocati difensori lo bollarono come un mitomane inattendibile. Cercarono di smontarne le accuse facendo forza sulla sua debole personalità. Ma il processo nato sulla base delle sue confessioni ha superato tre gradi di giudizio, finendo con la sentenza definitiva della Cassazione. L'ergastolo a Mario Vanni, detenuto nel carcere Fiorentino di Solleciano in attesa di un atto di clemenza per gravi motivi di salute. E 26 anni a Giancarlo Lotti, recluso a Monza. A 33 anni dal primo delitto, è il punto fermo della nuova inchiesta. Ma chi è Giancarlo Lotti? Viveva in casa di fortuna e non aveva un mestiere fisso. Faceva i lavori che capitavano per guadagnare quanto bastava per mantenere sé, la macchina e andare a donne una volta alla settimana. Un tipo chiuso a cui pesava la solitudine. Negli ultimi tempi un prete lo ospitò nella casa famiglia della sua chiesa a San Casciano Valdifesa. La nostra truppa lo sorprese in pigiama. Lotti fu interrogato la prima volta il 19 luglio del 90, ma le sue parole non lasciarono tracce profonde, anche se già accennò alla coppia Pacciani Vanni. Tornò alla squadra mobile il 15 dicembre del 95, poi l'11 febbraio 96. Un'intercettazione telefonica e la testimonianza di chi aveva notato la sua macchina sul luogo dell'ultimo delitto lo misero con le spalle al muro. Lui ruppe il muro di paura e omertà che lo legava ai suoi compagni di merende. Accusò i vecchi amici, arrivando a delineare uno scenario sconvolgente. una banda di assassini che uccideva su commissione. Gente misera che sfogava nella violenza le proprie perversioni sessuali. Nell'ombra qualcuno pagava per avere il pube e il seno strappati alle povere ragazze e per comprare il loro silenzio. In aula Giancarlo Lotti parlò di un dottore che aveva visto una volta in paese. Mi ha detto questo dottore che andava dal mercatario, dal pietro per prendere questa roba delle donne. Gli dava qualcosa in cambio? Dice che ne pagava, poi io non so. Gli ne? Dice che ne pagava questa roba. Poi io non so. Pagava nel senso che dava i soldi? Sì. Beh le cose le sa molto di più. Se non lo vuol dire è un discorso e non glielo possiamo strappare con le mani, con le tenaglie. Però qualcosa in più dovrebbe dire, per il suo interesse, l'interesse di tutti, per la giudizia. Mario mi ha detto di dare un medio, io posso approfondire la roba. Io la prego di dire più cose su questo punto, perché qui si deve dire la verità, tranquillamente e sinceramente. Ma io questo qui giorno, poi non so le altre cose. L'ha visto quel giorno? Quel giorno e basta. Lei disse è il suo dottore, il suo, il suo di chi? Di Pacciani? Il suo dottore di quello che curava lui, che curava Pacciani. Che curava Pacciani? Pacciani. Quindi questo medico è un medico di Pacciani allora? Questo un suo signor, proprio quello lì che andava a prendere questa roba. Comunque è stato un medico di Pacciani. Sì. Giancarlo Lotti non ha saputo o voluto dire di più. Le sue confessioni e la ricerca dei mandanti riportano a un episodio mai chiarito. Il 23 gennaio 96, una donna fece visita nella casa di Pietro Pacciani a Mercatale. La moglie Angiolina ne uscì sconvolta. La squadra mobile ha identificato quella signora nella vedova di un medico ginecologo morto nell'89. A suo tempo già sfiorato dall'inchiesta e da qualche chiacchiera. È indagata per lesioni e rapina. L'avvocato nega, aspetta gli atti, le prove del magistrato. Ancora oggi ci si chiede cosa cercasse quella donna. Intanto nell'inchiesta torna il nome di Pietro Pacciani. Dagli accertamenti patrimoniali risultava che tra il 79 e l'84 aveva comprato due case e investito quasi 158 milioni in buoni postali. Suore Elisabetta, che non gli fece mai mancare il suo aiuto umano e il conforto religioso, custodiva titoli e libretti. Troppi risparmi per un pensionato secondo gli inquirenti che si chiedono se fossero i soldi pagati dal misterioso dottore, dal mandante o il frutto di un ricardo. Pacciani è morto, a Mercatale vogliono dimenticarlo. Siamo andati dal suo avvocato e amico, che invece ricorda con piacere la lunga battaglia processuale e le sue esibizioni poetiche. Se il mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbe meno pensieri e meno peni e il mondo ne sarebbe abbastanza più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'attività e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei ricordarne che lei di questo si deve occupare. Ecco l'attenzione di Pacciani. Lui ha fatto un processo partecipando sempre. Questa mi sembra che fosse l'attesa della condanna quando venne portato in aula. Il difensore conserva con cura una trentina di memoriali, nei quali il contadino pensionato raccontava la sua vita tribolata e reclamava la sua innocenza. Ci mostra una lettera speciale che Pacciani gli spedì il 13 marzo 95, in cui parlava di un dottore famoso e protetto. E poi di qua comincia a raccontare che lui ha saputo da varie cose raccolte e tanto che ne parlano di questo medico chirurgo pratico in anatomia per il taglio con bisturi. È persona protetta, altrimenti lo avevano preso tanti anni orsono. Pacciani non fece mai nomi. Quando tornò in paese assolto e libero, ma con Giancarlo Lotti che puntava il dito contro di lui, si barricò in casa. La moglie e le figlie lo avevano lasciato. Alla sua porta solo tanti curiosi e fotografi. Ah, via Pietro! Che ha detto? Facci fare due foto belline. Pietro! Pietro! Una domenica, 22 febbraio 98, lo trovarono morto. Infarto al miocardio stabilì l'autopsia, ma dopo tre anni non riposa in pace. Sulla sua fine c'è l'ombra del delitto, forse del vero mostro, come lo chiamava lui, che lo avrebbe tolto di mezzo per salvare se stesso. L'avvocato Fioravanti non ci crede. Non aveva paura di essere ammazzato. Difficile che Pacciani avesse questo timore. Ma aveva paura di morire perché ne aveva avuti quattro di infarti e neri ser neri, quando ce l'ha fatto liberare dal carcere con quella perizia che io ho qua, disse questo è un altro infarto e se ne va. E così è stato. Se la crisi cardiaca di Pietro Pacciani fu accelerata, indotta dall'abuso di qualche sostanza, dovranno dirlo i periti tossicologi dell'Istituto di Medicina Legale di Firenze, incaricati di analizzare i liquidi biologici prelevati dopo la morte, ma soprattutto di accertare quali medicinali o altri preparati prendeva e in che dosi. Il magistrato ipotizza l'accusa di omicidio volontario, per ora contro i gnoti. Dovremmo anche controllare le prescrizioni che i Pacciani, che erano state date al Pacciani e quindi sulla scorta di tutta questa serie di dati, poi intraprendere delle particolari ricerche. Che il Pacciani Pietro fosse un cardiopatico, fosse un diabetico, fosse anche un etilista, lo sappiamo tutti, lo era da lungo tempo. Tutto sta a vedere se qualcosa può avere accelerato, ma più che accelerato, scatenato, ho detto bene all'inizio, scatenato qualche fattore patologico in più. Perché lui aveva superato tanti infatti, per esempio. Ecco, tutto lì. Seguendo il filo dei dati processuali, la vicenda di Pietro Pacciani e dei compagni di merende, potrebbe riportare al punto di partenza investigativo, la pista sarda. Quest'uomo è Francesco Vinci. Nell'82 fu arrestato e accusato di essere il colpevole. Era in prigione il giorno dell'agguanto di Giovoli. Nell'89 fu prosciolto. Giancarlo Lottine parlò in uno dei suoi interrogatori. Disse di aver sentito dire a Mario Vanni che bisognava commettere un omicidio per far uscire uno di carcere. Una persona conosciuta da Pacciani. Un altro sardo, Giovanni Calamusca. Vive sulle colline del Mugello, commerciante di bestiame con un passato pieno di guai con la giustizia. Fu anche accusato di aver nascosto la pistola, la veretta calibro 22. Arrestato, fu poi assolto. Tra lui e Francesco Vinci c'era un'amicizia nata in carcere. Al processo raccontò che Vinci gli aveva confidato di aver commesso il primo delitto nel 68, insieme a Stefano Mele, il marito tradito della vittima. Quello fu un delitto d'onore. Poi la pistola sarebbe finita nelle mani di Pietro Pacciani. Al processo Calamusca disse che qualcuno temeva che Vinci potesse parlare. Non è mai stato un gran ladro, quindi non c'era bisogno di ammassarlo come l'hanno ammassato. Io ho sempre pensato che ci fosse qualcuno sotto che avesse paura che Vinci parlasse dalla pietole, e che Vinci l'abbia ricattato nel vero senso della parola. L'8 agosto 1993, Francesco Vinci fu ucciso nei boschi di Pisa, incaprettato e bruciato nel bagagliaio dell'auto con il suo servo pastore, Angelo Vargio. L'indagine dei carabinieri però portò lontano dalla storia del mostro di Firenze. Innanzitutto Vinci non aveva apparenti interessi nelle campagne pisane, anche se il suo nome era conosciuto. Quella sera avrebbe accompagnato l'amico ad un appuntamento con altri sardi. Una questione di soldi sarebbe il movente dell'esecuzione. All'epoca il magistrato chiese il rinvio a giudizio di due fratelli, ma il giudice disse no. L'omicidio non è l'unico ad aver segnato questi anni dell'inchiesta, ci sono altre persone che sembrano state uccise da una mano invisibile. Come Milva Malatesta, anche lei bruciata nell'auto con il figlio di tre anni, pochi giorni dopo la morte di Vinci. Sua madre fu vittima delle prepotenze di Pacciani e Vanni. L'inchiesta va avanti e lungo questa catena di morti. Le famiglie segnate da tanto dolore aspettano di conoscere l'ultima verità.